Da tre anni manca dal piccolo schermo, ma adesso che l'incubo è finito, Vittoria Cabello può tornare a fare ciò che più le piace. Scomparsa dalla TV dopo l'esperienza a quelli che il calcio, la brava conduttrice ha dovuto pensare a se stessa e curare la malattia di Lyme da cui era stata colpita. Il decorso di quella che il New York Times ha definito la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente in America dopo l'AIDS è stato lento e adesso che è di nuovo operativa, l'ex VJ di MTV riparte da Emon Cici, la serie TV cult degli anni 80 sulle scimmiette pelose che dopo 35 anni dalla prima messa in onda in Italia torna su The Eye Junior dal 3 novembre. La malattia di Lyme non è ancora molto conosciuta in Italia e Vittoria ci scherza su, sono sempre un po' avanti, anche in questo caso sono il primo personaggio pubblico in Italia ad aver sofferto di questa malattia. È causata da un batterio che infesta le zecche che a loro volta possono trasmetterlo a uomini e animali. Il primo diffusissimo sintomo è un eritema di piccole dimensioni, a ciò seguono mal di testa, dolori muscolari, febbre e stanchezza. All'inizio mi sentivo tremendamente stanca, poi la cosa è andata peggiorando ma non si arrivava ad una diagnosi, ha dichiarato durante la conferenza stampa per la presentazione del nuovo impegno con The Eye Junior tenutasi in Giappone. Ora ho deciso di fare solo cose che mi divertono, ho fatto sapere Vittoria.